buongiorno cari amici buongiorno come va quest'altra giornata trascorsa in casa spero bene io mi sono dilettata in mattinata a riprendere in mano tutte le foto tutte le foto sparse per risistemarle in in album visto che adesso non si usa più però è sempre bello fare questo riprendere in mano vecchie foto che ti fanno ripercorrere momenti belli della tua vita momenti forse meno belli non lo so comunque è sempre bello ripercorrere tutti quei momenti che tu hai trascorsi in allegria con i tuoi cari e rimettere a posto un po è come rimettere a posto il puzzle della tua vita è bellissimo vi assicuro fatelo anche voi su dai che trascurriamo bene il tempo in casa rimaniamo a casa